Ho iniziato a lavorare d'artista a Londra quando abitavo, gli ultimi anni che abitavo a Londra, anzi forse l'ultimo anno, il 2000 credo sì. E poi sono tornato in Italia e in Italia c'è stata per una serie di coincidenze ho iniziato a lavorare seriamente nell'arco di pochissimi mesi addirittura. Ero già in collezioni importanti come il Maximo, le mostre in questi musei oppure, ne so, a Royal Academy di Londra, eccetera. Quando ho iniziato a lavorare d'artista, a fare questo mestiere, ho iniziato facendo dei disegni perché praticamente io in realtà avrei voluto fare delle stampe fotografiche, facevo molte fotografie, facevo dei video, dei cortometraggi, eccetera. Però non avendo soldi, di grande formato, ma non avendo soldi mi era impossibile. Allora mi sono ricordato di essere un bravo disegnatore e ho cominciato a... Ho detto, va bene, mi sono comprato dei rotoli di carta Fabriano, questa qua. e ho cominciato a fare, diciamo, a copiare queste fotografie in piccolo formato con molta cura per i particolari così che fossero, che rendessero l'idea proprio della foto. Però ovviamente tu con la matita non puoi rendere pienamente l'idea della fotografia a meno che tu non utilizzi, diciamo, l'escamotage di creare una fotografia vecchia, quindi rovinandola, eccetera. Alla pittura ho cercato di applicare questa stessa regola, però cercando delle nuove tecniche, diciamo. Le installazioni ho cominciato a farle perché nel 2004, se non sbaglio, c'era questo premio della giovane arte italiana, giovani artisti italiani, ho vinto questo premio. Dovevo fare questa cosa alla Biennale di Venezia. Fondamentale è che questa installazione doveva poi entrare nella collezione del Maxi di Roma e quindi bisognava poi smontarla e rimontarla, quindi non poteva essere qualcosa di fatto, di costruito lì al momento perché poi si doveva riassemblare. Allora me la sono fatta fare a Cinecittà, dai carpentieri bravissimi, migliori al mondo. Fondamentalmente era una stanza, un salotto settecentesco, riprodotto nei minimi particolari, misura 1-1, quindi mettiamo 6 metri per 8, una cosa così, con archi, cose molto ricche, molto così, riassemblato in questo spazio e poi però lo spettatore non poteva accedere, ma poteva soltanto vederlo attraverso il vetro di una porta lungo un corridoio. Tu immaginati una stanza che è abbandonata da 200 anni. Cosa può succedere? Quindi se per esempio c'è un vetro rotto in una finestra da qualche parte della casa, sicuramente entreranno uccelli che porteranno terriccio, vegetazione spontanea, polvere da tutte le parti, quindi questo rappresentava un'esperienza fantastica. Non credo nelle radici, non ci credo, non ci credo semplicemente perché siamo esseri umani, non abbiamo... cioè non hai bisogno delle radici, di cercare il contatto con le radici, perché tu sei fatto delle tue radici, anzi penso che sia controproducente, cioè che sia... che annichilisca il tuo lavoro, che privi di slancio e di autonomia il tuo lavoro, perché nel momento in cui cerchi di stare in contatto con le tue origini, devi per forza di cose assimilare quei codici che non sono sempre i tuoi.